benvenuti oggi vi accolgo della cucina di una casa indipendente che si trova a tiene nel centro storico è un'abitazione di 100 metri quadri circa che si sviluppa al piano terra con cucina soggiorno open space piccolo giardinetto di proprietà al primo piano camera matrimoniale cameretta doppi servizi e un piccolo ripostiglietto e nel piano semi interrato si sviluppa la cantina con la lavanderia c'è anche il garage singolo con l'apertura elettrica allora le caratteristiche di questa abitazione riscaldamento a pavimento predisposizione alla climatizzazione l'impianto di irrigazione al giardino già predisposto già esistente e balcone alla vicentina allora sicuramente come caratteristiche peculiari di questa abitazione posso dirmi che è tranquilla e silenziosa c'è una pace unica è un'abitazione comunque ridosso del centro molto comoda ma esterna sia all'area pedonale che all'area di abita ai mercati e alle varie attività se volete avere ulteriori informazioni andate sul nostro sito www.immobiliaremarsetti.it dove troverete le foto e le schede tecniche e tutte le informazioni grazie a tutti